Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Abella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook Mercedes-Benz Dug Auto. Ho subito smentito il concorrente di Sarabanda. Non ho mai parlato di trasmissione pilotata o battute dettate da altri. Anzitutto lo staff di Sarabanda mi ha sempre coccolato lasciandomi libero di dire tutto ciò che mi andava. Evidentemente qualcuno ha voluto strumentalizzare cavalcando la mia spontaneità. I giornali nazionali hanno montato perché la verità è un caso sui miei commenti su Facebook quando io non ho detto nulla di trascendentale. Quindi non capisco questo accantimento contro la mia persona e contro questi miei commenti che io trovo... Il passaggio è stato che tu avresti fatto una battuta in Napoletano. Esattamente, ma non c'è nulla di scritto dagli autori, è piaciuto solo la mia parlata. Quindi nulla di anomalo. Non so perché si ostinano le persone a fare queste cavolerie, Ottavio. Nessuno ti ha imposto di fare le battute? Assolutamente nulla. E nel conto di un copione già stilato? Assolutamente, Ottavio, è piaciuto anche a Manzi la mia spontaneità, la mia genuinità durante i provini perché comunque è piaciuto questo fondamentalmente. Quindi non capisco questo caso perché stanno mandando un vero e proprio caso. Io sono rimasto senza parole quando mi hanno chiamato. Infatti ho contattato queste redazioni, questi giornali facendo appunto modificare questi articoli perché sono tendenziali. Quindi dicono la verità. Il gioco insomma non è pilotato? Assolutamente. Ma come... Non assolutamente. Io sono uscito perché ho sbagliato delle domande, quindi è giusto che ho pagato la mia eliminazione. Perché comunque il gioco è bene strutturato, è un bellissimo show. Ma tra l'altro sei stato un protagonista, noi ti abbiamo servito, sei stato anche molto brillante. Ti ringrazio Ottavio, però comunque il gioco è ben fatto, è ben strutturato, autori bravissimi, cordialissimi. Anzi ti coccolano molto. Quindi scrivono che sono stato bravo, che ho avuto i complimenti al posto di scrivere queste cose. Che fondamentalmente a me danno molto fastidio e danno ancora tuttora fastidio.